GIOVANNI PAOLO TV A me ho guardato su Giovanni Paolo TV in tanto castello in tanto a toccare un pormiferol A me ho guardato in tanto a cantare un buon caffè Ah, mi rilassa bomba! A me ho guardato su Youtube a me ho guardato su Youtube tutti i volti che non voglio e a me ho guardato anche il veci puntetti su DVD So quanti minuti in dialetto pramzano? Seconda edizione la trasmission pramzana con la pièce a tutti da domenica a quinto marzo ore 21 che si risponde a dialetto pramzana non vuol dire eh? Aspetto tutti solo su Giovanni Paolo TV e da buon pramzana che è mosfist